Allora, continuano da parte dell'amministrazione comunale gli incontri che facciamo esponendo la proposta di piano regolatore della città di Fano ai residenti, agli abitanti dei vari quartieri. Ne abbiamo fatti ormai una decina di incontri, abbiamo verbalizzato tutti i suggerimenti che arrivano dalla gente, da chi partecipa, le persone in genere si mettono intorno a un tavolo con noi e cercano di capire come migliorare la città pubblica nei loro quartieri. Il prossimo incontro è un incontro importante perché sarà un incontro che riguarderà l'area urbana. Si terrà giovedì 20 alle ore 17.30 presso la Mediateca Montanari in città e riguarderà appunto i quartieri dell'area urbana, ovvero la zona del litorale Lido, Sassonia, Baia Metauro, ma anche la Paleotta e il Poderino fanno due, i passeggi, San Cristoforo, ma anche gli altri quartieri periferici che sono cresciuti intorno alla città che ormai sono diventati molto popolosi come Sant'Orso, San Lazzaro, Vallato e Madonna Ponte. Questa è l'impostazione che abbiamo dato. Alle ore 17.30 ci sarà la presentazione delle proposte da parte dell'amministrazione comunale. Alle 18.30 si creeranno dei focus group dove ognuno potrà appunto suggerire per migliorare la città pubblica le proprie idee e noi tutte queste idee come abbiamo fatto in passato le verbalizzeremo e ne teremo conto nella discussione che il piano regolatore potrà avere a partire da dopo l'estate. Questo è un invito, quindi giovedì 20 all'ora 17.30 alla Mediateca Montanari per tutti colori che fossero interessati e che possono portare anche un contributo prezioso di suggerimento utile all'amministrazione comunale per migliorare un lavoro già svolto.